La menza La menza accoglie tutte le persone che si presentano qui, siamo più o meno sulle 500 persone, italiane e stranieri senza nessuna distinzione, soprattutto uomini di ogni età e di ogni provenienza, abbiamo più o meno metà italiani e metà stranieri, stranieri soprattutto dall'Africa centrale e dal Medio Oriente. Le persone cercano oltre che il cibo anche una parola di conforto, anche perché per chi rimane a Roma testata e vuota la solitudine si fa sentire di più, quindi oltre a dare un passo diamo anche un attimo di accoglienza dal punto di vista umano. I volontari servono soprattutto per questo, oltre a dare il cibo anche a dare una parola di conforto alle persone che rimangono a Roma in questo periodo. Quasi più di 25 anni che sono volontario e come ospite domenica prossima il 20 agosto faccio 14 anni e qui ho conosciuto tanti amici, ho conosciuto un mio amico che si chiama come me, lui che mi ha introdotto e siamo diventati amici che lui mi dice sempre che quando vado a mia casa, tu casa. Io mi chiamo Michael, io ho 23 anni, adesso io non c'è la casa, io sti strada, io do me next strada, io non c'è casa, adesso prima io mi chiamo Giroba, io andiamo a Roma 4 mesi, io sei a Roma 4 mesi. Quanti anni fa la volontaria? Saranno due anni, una vengo saltoriamente, quando c'è bisogno. I giorni di festa c'è più bisogno? Sì, in genere sì, quando sono occupata con i nipotini allora sono libera da portacoltura. Quanto bisogno c'è nei giorni di festa soprattutto? Molto, è un bel sacrificio perché siamo io e mia moglie, portacoltura e mia moglie, non andiamo da mia figlia, andiamo direttamente, veniamo qua. Un modo diverso di passare per agosto? Una volta ogni tanto si può fare. Da quanto tempo vieni qua? 15 anni. 15 anni? Vivo per la strada, questo piccolo, diciamo così, mi ha sempre aiutato però, come Rubio, come Maurizio e tutto quanto mi hanno sempre aiutato. È un'altra casa? Diciamo di sì.